Ma ciao, miei piccoli pirati! Io sono il vostro bucaniere spavaldo preferito! Foxy, la volpe pirata! Yahahahahah! Lo sapevate che oggi ci sarà uno spettacolo per voi? Tra soli... Dieci minuti? Aspetta, dieci minuti? È corretto! Dieci minuti! Potete crederci? Mancano dieci minuti? Allora dovremmo prepararsi subito al più presto! Oh, allora devo preparare la mia voce per cantare! La 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 la! Bonnie, renditi utile e inizia a pulire il palco! Hai i suoi ordini, mister Boss! Cerca di non scivolare almeno! Wow 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 wow! Ehi, smettetela di fare gli sciocchi! Comunque, ricordate di venire in tempo per lo show? Non arrivate né prima e né in ritardo, capito? O verrete costretti a camminare nel vuoto! Yahahahahah! Gluorica! Argo! 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 Ma ciao miei piccoli pirati, io sono il vostro bucaniere spavaldo preferito, Foxy la volpe pirata, lo sapevate che oggi ci sarà uno spettacolo per voi? Tra soli dieci minuti? Aspetta, dieci minuti? È corretto, dieci minuti, potete crederci? Mancano dieci minuti? Allora dovremmo prepararci subito al più presto. Oh, allora devo preparare la mia voce per cantare. La 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 la. Bonnie, renditi utile e inizia a pulire il palco. Ai suoi ordini mister boss. Cerca di non scivolare almeno. Wow 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 wow! Ehi, smettetelo di fare gli sciocchi! Comunque, ricordate di venire in tempo per lo show? Non arrivate né prima e né in ritardo, capito? O verrete costretti a camminare nel vuoto! ma ciao miei piccoli pirati io sono il vostro bucaniere spavaldo preferito foxy la volpe pirata lo sapevate che oggi ci sarà uno spettacolo per voi tra soli dieci minuti aspetta dieci minuti è corretto dieci minuti potete crederci mancano dieci minuti allora dovremmo prepararsi subito al più presto oh allora devo preparare la mia voce per cantare la 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 bonny renditi utile inizia a pulire il palco cerca di non scivolare almeno ehi smettetela di fare gli sciocchi comunque ricordate di venire in tempo per lo show non arrivate né prima e né in ritardo capito? o verrete costretti a camminare nel vuoto ma ciao miei piccoli pirati io sono il vostro bucaniere spavaldo preferito foxy la volpe pirata ya ha 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 lo sapevate che oggi ci sarà uno spettacolo per voi tra soli dieci minuti aspetta dieci minuti è corretto dieci minuti potete crederci oh allora devo preparare la mia voce per cantare la 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 ehi smettetela di fare gli sciocchi comunque ricordate di venire in tempo per lo show non arrivate né prima e né in ritardo capito? o verrete costretti a camminare ma ciao miei piccoli pirati io sono il vostro bucaniere spavaldo preferito foxy la volpe pirata io sapevate che oggi ci sarà uno spettacolo per voi tra soli dieci minuti aspetta dieci minuti è corretto dieci minuti potete crederci ehi smettetela di fare gli sciocchi ehi smettetela di fare gli sciocchi che importa foxy? pensavo volessi un pubblico Grazie a tutti Grazie a tutti